Sei Manuel Ciopparrossa della Pierna, ho conquistato le donne più belle del mondo Charlize Theron, Lady Gaga, Elton John Elton John è un uomo Lo so, è stato un incidente, ero vestito da pastorella Ah, da pastorella? Eh, ridi, tu dove cacchio eri quando Elton John mi voleva accordare lo strumento? Every day I...